Dobbiamo diventare tutti delle media company. Questa è una delle declinazioni più frequenti che ci sentiamo dire quando ci muoviamo nel territorio della trasformazione digitale. In estrema sintesi che cosa significa? Abbiamo capito che per sviluppare il business della nostra impresa abbiamo bisogno di costruire relazioni forti e di lungo periodo con i nostri clienti e che il prodotto non garantisce più questo obiettivo. Ed è per questo che le organizzazioni stanno affiancando alla tradizionale produzione e distribuzione di prodotti e servizi tipiche di ogni attività la creazione e pubblicazione di contenuti digitali e non. Beh, allora, detta così sembra una cosa un po' teorica, un po' difficile anche da afferrare. Facciamo degli esempi pratici. Qualche mese fa, in occasione del World Economic Forum di Davos, il fondatore di Tecnogym, Nero Alessandri, ha raccontato che sta lavorando per diventare una media company e che già nel 2019 Tecnogym offrirà nuovi servizi interattivi, allenamenti on demand o in diretta, fruibili anche da casa, palestra, hotel, insomma, diventando così a tutti gli effetti una media company. Nero Alessandri è considerato uno degli imprenditori italiani più innovativi. La sua Tecnogym ha chiuso l'anno scorso con ricavi pari a 634 milioni di euro e con un incremento dell'8% rispetto ai 587 milioni dell'anno precedente. Indubbiamente ottimi risultati. Una bella azienda, non c'è dubbio. Alessandri nel recente passato ha trovato il suo posizionamento mettendo insieme, con le sue macchine per il fitness, tecnologia e design e ora ci racconta che sta navigando, diciamo, in direzione della media company. Insomma, il nuovo focus sui contenuti digitali ed esperienziali rappresenta sicuramente un passo in avanti, un avanzamento nell'ecosistema del wellness, così come non viene di moda chiamarlo oggi. Non sappiamo quanto questo avanzamento di Tecnogym accada per intuizione strategica o per spinta della concorrenza. Forse per entrambe le cose. A cosa mi riferisco? All'altra parte dell'oceano, dal 2012, si è acceso il fenomeno Peloton. Parlo di fenomeno perché in questo caso la crescita non è accaduta, come dire, passo dopo passo, cioè sembra quasi che abbiano indossato gli stivali delle sette leghe di Pollicino. Peloton è andato avanti a balze di sette leghe, tant'è che ha chiuso a febbraio l'esercizio fiscale con ricavi per oltre 700 milioni di dollari, con un incremento a anno superiore al 100%, quindi dei numeri da capogiro. Peloton è un normalissimo produttore di ciclette. Magari se sentissero che li ho definiti come un produttore di ciclette, forse si arrabbierebbero. E in fondo ad arrabbiarsi avrebbero anche ragione, perché Peloton non vende di fatto ciclette, ma esperienze. La ciclette è di fatto solo un supporto, indispensabile sicuramente per fruire delle esperienze che offre. Che cosa hanno di particolare queste biciclette diaboliche? Davanti al nostro pedalatore hanno piazzato un bello schermo che consente di accedere a dei contenuti. Ed è attraverso quello schermo che Peloton trasmette 24 ore di contenuti televisivi dal vivo ogni giorno in tutto il mondo. Non solo. È possibile poi accedere anche a contenuti on demand. Sembra che abbiano circa 10.000 lezioni su richiesta. Numeri incredibili. E tutto questo, al modico prezzo, si fa per dire di 39 dollari al mese. Non male, no? Che ne dite? In una recente intervista, il CEO di Peloton si è posizionato come la Netflix del fitness. E ha aggiunto che spenderà 45 milioni di dollari per sviluppare il miglior studio di streaming digitale a Manhattan. Ed un altro sembra che sia in costruzione anche in Europa. Voi mi direte, ma noi non abbiamo 45 milioni di dollari. Certamente, ma come si dice, è tutto relativo. Il problema non è se abbiamo abbastanza soldi, ma come decidiamo di spendere i soldi che abbiamo. Perché per diventare una media company occorrono due cose semplici. Primo, decidere che è indispensabile diventarlo. Secondo, cominciare a dirottare in quelle direzioni il nostro budget, i nostri soldi. Ma proviamo a dare qualche cenno di confronto con la nostra Tecno Gym nazionale. Vedete qui un bello oggetto, design di primo ordine. Vedete, potete controllare tutti i vostri parametri fisici, oltre che ovviamente i vostri risultati. Mi controlla tutto, è perfetta, un ottimo user experience. Ma siete voi da soli. Qui siete in relazione con il vostro coach. E non solo, anche con un bel gruppo di persone che frequentano il vostro corso. Frequentano, tra virgolette. E magari, che ne so, se vi va, potete pure decidere di ingarellarvi con qualcuno della community. Qui non siete soli. Qui siete in mezzo ad una community che mette insieme conoscenze, competenze e relazione. Peloton, come si dice, ha preso due piccioni con una fava. Ha aumentato la connessione con i propri clienti. Converge verso un modello di business in abbonamento. Se vi devo dire la verità, faccio il tifo per la nostra Tecno Gym nazionale. Nero Alessandro, un imprenditore visionario, l'annuncio che ha fatto di voler diventare una media company lo dimostra. La cosa certa è che nessuno è mai al sicuro dietro il proprio modello di business. Ancorché di successo. E voi che fate? Controllate insieme al vostro team con frequenza la tenuta e la coerenza del vostro modello di business? Punto di domanda? Punto di domanda? Punto di domanda. Grazie a tutti